Quarta puntata di Il pensiero di Caritas Ticino è online, ancora dedicata al tema dell'educazione. L'educazione è un rapporto tra genitori e figli, insegnante e allievi, educatore specializzato e persona portatrice di handicap. L'importante è avere chiari degli obiettivi e l'obiettivo dell'educazione per un genitore è quello di far crescere un bambino e farlo diventare un uomo. E in questo senso, in fondo, basta avere in testa il fatto che bisogna educare a essere e non a educare ad avere o a fare. Perché per fare centomila cose o per avere tante cose, tante opportunità, ci vuole un sacco di tempo. E infatti tanta gente dice, ma tu come hai fatto? Quanto tempo per educare tutti quei ragazzi? No, perché per educare ad essere basta stare insieme e starci bene e avere chiari questi obiettivi di dominio di sé, di scelte, di valori. E poi si sa che meno cose si hanno, meno soldi si hanno in tasca, più è facile educare. Nella cultura del narcisismo noi tenderemo quindi a vivere il nostro figlio, se siamo stati impostati appunto verso il narcisismo, come un'estensione del sessi, dice in gergo tecnico, come se fosse qualcosa che mi appartiene con un prolungamento del mio braccio, della mia gamba o del mio cuore, della mia mente, che poi significa, voglio dire, la stessa cosa. Io non posso come genitore vivere mio figlio come estensione di me stesso, perché altrimenti commetterei il più grave degli errori. I nostri figli vengono attraverso di noi, ma non ci appartengono. Noi dobbiamo essere i genitori in grado di fornire loro dei valori e dei punti di riferimento molto ben precisi, per poterli lanciare poi nella vita. Tanto più saremo stati bravi a fornire loro queste indicazioni, questi concetti, questi valori, quanto più saremo stati bravi, tanto più i figli poi percorreranno un bel tragitto, un bell'arco nella loro vita. Secondo me la gente non ha chiarezza, non è aiutata. I genitori non sono aiutati ad avere degli obiettivi. non sanno in fondo dove devono arrivare. E questo è una questione di cultura, effettivamente è una questione di cultura. Ma noi siamo circondati in fondo da una cultura che ci viene propinata dai media a tambur battente, che ci distrae dai nostri obiettivi. Forse un genitore, se avesse il tempo di pensare, di riflettere, di meditare, vorrei dire, su che cosa vuole dal proprio figlio, che cosa vuole ottenere, ma non ha il tempo, non si concentra. Ai ragazzi stessi manca questo tempo per riflettere, per contemplare, per pensare e per cui anche tante difficoltà di studio vengono da questa incapacità. Tutto deve essere interattivo, tutto mi arriva e devo rispondere, devo fare, devo correre, devo attivarmi. Queste famiglie così separate, ognuno che va per conto suo, direi che è anche una questione di fecondità, che non ha niente a che vedere col numero dei figli, ma con quella disponibilità, è la disponibilità che uno ha nei confronti degli altri. La fecondità è quella voglia, quella capacità di donare se stessi il proprio tempo, la propria generosità verso le persone che vediamo magari un po' disorientate o non così centrate sugli obiettivi. Bisogna aiutarsi fra famiglie. Quindi una fecondità anche tra le famiglie, non solo con i propri figli o con… Ecco, esattamente. Cioè si può essere fecondi anche verso altri genitori in un certo senso. Sì, non bisogna chiudersi, non bisogna aver paura di aprirsi agli altri, di mettere davanti agli altri i propri problemi, le proprie paure, ma aprirsi, avere possibilità di comunicare, di pensare, di prepararsi. Io intendo per autorevolezza la capacità di essere seguibili da parte dei nostri figli per scelta, perché siamo delle figure stimabili. Ecco, arrivare ad essere stimabili nei confronti dei nostri figli è un'operazione che richiede un certo impegno, una certa attenzione. Un conto è essere autoritari, che significa io intervengo con una certa forza, una certa durezza su alcune cose, e allora finché ho la possibilità, la capacità di essere appunto impositivo, il figlio a torto collo riceverà l'imposizione, ma sicuramente non avrò educato, perché è la prima occasione che capiterà al figlio, il figlio ce la farà, ce la farà anche piuttosto grossa, perché magari vorrà dimostrare o addirittura essere punitivo nei confronti di questa imposizione. Ecco, quindi è importantissimo anche a livello di salute psichica, il bambino prima, il fanciullo poi, ha bisogno di avere delle figure genitoriali, quindi dei caregiver stimabili da poter portare dentro la sua mente per poter strutturare la sua strutturazione psichica. Di episodi ce ne sono tanti, ma ne vorrei raccontare uno che riguarda piuttosto i genitori, l'educazione delle mamme. Mi ricordo che una volta, dopo un sabato e domenica di pioggia, in cui i bambini ci avevano fatto abbastanza impazzire, avevamo avuto centomila contrarietà, forse anche una notte insonne alle spalle, e io correvo per la casa facendo chissà cosa per far divertire i miei bambini, per fargli passare il tempo. A un certo punto io ero decisamente tesa, nervosa. Uno dei miei bambini si è fermato, mi ha preso la faccia fra le mani e mi ha detto «Mamma, ridi, ti prego mamma, ridi!» E lì ho capito che più di ogni altra cosa i nostri figli, specialmente i figli piccoli, hanno bisogno del sorriso della mamma, del sorriso, anche se non ne abbiamo voglia, anche se siamo stanche, anche se siamo nervose, dobbiamo regalare ai nostri figli la nostra gioia di stare con loro. Il rapporto educativo fra una figura professionale come l'educatore e una persona portatrice di handicap è sostanzialmente una questione di relazione. Si potrebbe pensare che è molto diverso parlare di questo tipo di relazione e quello che invece intercore fra un genitore e un figlio, ma sostanzialmente le cose funzionano su tracce parallele. Sarebbe un discorso molto lungo da fare sulla normalità, di che cosa significa secondo noi essere normali. e potremmo chiederci per esempio come si può offrire normalità semplicemente conoscendole, approfondendo quello che sono e dimostrando interesse per quello che loro vivono e per come loro lo vivono. Questa è la maggior offerta di normalità che si può dare a queste persone. Il nostro compito, il nostro ruolo, il nostro lavoro consiste tra persone e adulte di cercare di cogliere prevalentemente questi due fattori. Cioè il bisogno e l'aspirazione dell'individuo che come ogni persona va e vuole andare verso qualcosa. Il mio scopo personale ma anche quello dei miei colleghi è soprattutto quello di stare, convivere, valorizzare queste persone nella maniera più normale possibile, in una convivialità il più normale possibile attraverso attività più normali possibili e a disposizione di altra gente, di terzi. Quindi la convivenza, anche momenti brutti che sicuramente ce ne sono in situazioni come abbiamo visto anche precarie in certi sensi cercare di togliere il massimo, cogliere il massimo da ogni singolo e cercare di convivere nella maniera più gioviale, più normale possibile. Quindi sì, è una scelta che implica anche una messa in discussione di tutti noi una messa in discussione degli altri e soprattutto una messa in discussione anche delle persone che confinano con noi perché comunque anche per loro è gente che viene da paesi vicini viene qua e si accorge che il mondo dell'handicap non è poi così diverso da quello tra virgolette normale perché comunque vede che la gente qui non è qui a... non è mia una gabbia da matt ma comunque si fanno delle attività c'è del lavoro e ci sono dei rapporti sociali, non i differenti. È chiaro che la motivazione dobbiamo ricercarla e trovarla nelle cose stesse che noi facciamo cioè noi non possiamo proporre a queste persone delle cose che non sono vere perché loro coglierebbero immediatamente che non c'è corrispondenza tra quello che siamo e quello che noi proponiamo. Quello che cerchiamo di offrire è una capacità di rapporto che parte dall'operatore in un certo ambito concreto di attività e che suscita la capacità di rapporto della persona capacità di rapporto vuol dire avere soddisfazione in tutte le manifestazioni della vita. Cioè ci sono due aspetti fondamentali dell'offerta di normalità che sono la qualità di vita e la capacità di rapporto noi interveniamo sempre in questi due ambiti cioè dobbiamo essere inseriti in una struttura nella quale e attraverso la quale noi possiamo crescere una persona si deve sentire un po' come se fosse in fondo a casa sua per poter fare dei passi avanti quindi è molto importante il clima di lavoro la soddisfazione personale che ognuno di noi può trarre da quello che fa perché questo è quello che comunicherà agli ospiti. Un luogo per curare, un luogo per aver cura delle persone magari questo amplia l'orizzonte perché non facciamo terapie in un senso specifico ma è anche vero che si dice quando una persona va a cavallo va a cavallo quando un handicappato va a cavallo fa ipoterapia. a venire qua all'inizio ci ho messo un po' a integrarmi nel gruppo e se ho scelto di venire qua a lavorare è perché sapevo che c'è da fare ma ho imparato a parlare di meno perché sempre di più c'è gente che non sa ascoltare ma quello che voglio sottolineare è che ogni nuova esperienza arricchisce l'uovo che ogni lavoro ha la sua dignità e che uno deve farlo e essere contento di quello che fa lui che non deve farlo per gli altri ma deve farlo soprattutto per se stesso. Educazione e scuola è forse il rapporto più classico quando si usa il termine educazione ma probabilmente è anche uno dei rapporti più difficili perché si tratta di riscoprire la verità di persone che si incontrano e hanno un progetto comune per costruire il futuro. Io volevo chiedere Io volevo chiedere Io volevo chiedere Io volevo chiedere perché i docenti insegnano come se non fossero mai stati ragazzi I docenti sono stati dei ragazzi hanno fatto la stessa esperienza che fate voi e hanno incontrato nella loro esperienza di ragazzi degli adulti provate a immaginare per un attimo se un docente entrasse in una classe e si mettesse a fare semplicemente il ragazzo che cosa avrebbe da dirvi? che cosa avrebbe da comunicarvi? Io in fondo credo che gli insegnanti siano delle persone esattamente come lo sono gli allievi che hanno fatto un pezzo in più di strada ma che si trovano sulla stessa strada su cui si trovano gli allievi è la strada del compimento della persona è la strada su cui tutti siamo chiamati a camminare ogni giorno cioè quella di scoprire chi siamo che valore abbiamo che posto abbiamo nel mondo e cosa siamo chiamati a fare Non c'è una separazione in questo Noi possiamo vedere gli insegnanti appunto come adulti e cioè come persone che hanno compiuto un pezzo di strada in più di noi e che hanno in questo quindi qualcosa da dirci qualcosa da comunicarci che ci interessa fino in fondo perché il nostro desiderio adulti o ragazzi è sempre quello di crescere è sempre quello di tendere al bene è sempre quello di tendere al senso di quello che facciamo Allora gli adulti fanno anche il loro mestiere in questo ma non perché si sono separati dai ragazzi o perché non hanno più niente da condividere con i ragazzi ma perché hanno un'altra consapevolezza della stessa strada su cui insieme stiamo camminando Allora gli adulti fanno anche il nostro